La nostra idea, disco bike. Utilizzando il programma SketchUp abbiamo costruito una casetta che abbiamo deciso di chiamare disco bike. Si tratta di una palestra discoteca che funziona grazie al movimento dei ragazzi che ballano al primo piano e al movimento di quelli che pedalano al piano terra. I ragazzi, dopo essersi allenati in palestra, potranno andare in discoteca a ballare salendo su un palo da pompieri. In entrambi i casi le loro energie verranno usate per dare vita a questa disco bike producendo corrente elettrica. E adesso tutti insieme a ballare in discoteca! Grazie a tutti! Grazie a tutti!